Fate un bel respiro profondo. Mettete le vostre mani sulle ginocchia e portate l'attenzione ai vostri piedi e al vostro centro basso. E insieme affermiamo, io immagino il mio centro basso. Io sento, intuisco e contemplo l'energia del mio centro basso. Io conosco il mio centro basso. Io onoro e rispetto la mia presenza del corpo. Io sono qui. Io do il benvenuto alle frequenze e le dinamiche delle particelle anions. Do il benvenuto all'ho nella mia consapevolezza, nelle mie fondamenta, Mentre continuo a incarnare di più chi io sono. Personalmente e collettivamente. Io sono nella mia verità. Sul pianeta. Con la mia famiglia dell'umanità. Con il campo di tutta la vita. Un profondo respiro. Benvenuti, anions. E se volete, potete mettere le vostre mani sul centro alto del cuore e portate l'attenzione al centro alto. Io immagino il mio centro alto. Io sento e percepisco, contemplo, l'energia del mio centro alto. Io conosco il mio centro alto. Io canalizzo naturalmente la mia presenza dell'anima. Io ricordo. Io sono. Benvenuti, anions, nella mia coscienza, nella mia consapevolezza. Mentre scelgo di compiere il mio salto quantico, L'energia nel mio intero essere integra. Le mie energie delle cellule, le mie energie delle molecole, si integrano nella dinamica degli anions. Vengono scambiate informazioni. Mentre mi apro le mie ispirazioni universali al collettivo di questo pianeta e anche oltre, affermando di essere ispirata dalla scienza, affermata dall'immaginazione, innovazione e evoluzione, affermata dall'immaginazione umana, dall'innovazione e dall'evoluzione umana. l'area del vostro terzo occhio è rispondendo e attivando a un nuovo livello di percezione, di visione. E questo avrà un effetto anche sulla responsabilità che avete scelto di esprimere in questo mondo. respirate profondamente. State scegliendo di aumentare la vostra abilità di esprimere il potenziamento pieno di pace. E se volete, portate l'attenzione alla vostra coscienza del nucleo. potete mettere le vostre mani sul plesso solare. Muovete le mani una vicino all'altro, alcune volte sul plesso solare. è un po' come accarezzare il vostro umbilito. Nella coscienza degli agnon, intrecciate le dita e metteteli in questo modo, di fronte a voi, sul plesso solare. Io immagino la mia coscienza del nucleo. Io sento, intuisco e contemplo l'energia della mia coscienza del nucleo. Io conosco la mia coscienza del nucleo. Io vivo e mi esprimo nella presenza dello spirito dell'amore infinito. Io so, io sono. Io do il benvenuto alle dinamiche degli agnon mentre integro di più chi io sono mentre mi esprimo nella mia presenza dell'amore infinito. stiamo parlando nella presenza del corpo, nella presenza dell'anima, nella presenza dell'amore infinito. e forse anche in una sensazione di totalità, di completezza. Mentre contemplate le dinamiche degli agnon. Ora mettete le vostre mani in questo modo, con la punta delle dita che puntano l'una all'altra sul plesso solare. permettete lo scambio multidimensionale di informazioni che contribuiscono all'abilità di esprimere di più chi voi siete mentre dirigete la vostra energia per cocreare la vostra vita, la vostra scelta. Un profondo respiro, mani sul cuore. c'è così tanta conoscenza da poter apprendere in questa vita la grande evoluzione è in accelerazione e questo ha un effetto su tutta la vita, sul campo di tutta la vita su questo pianeta. voi, come esseri umani siete qui per partecipare in questa grande evoluzione in modi che non sono stati mai visti in precedenza. siate più fiduciosi e ottimisti mentre mantenete il vostro potere in questo stato di potenziamento pieno di pace. le vostre percezioni diventano più chiare le vostre comprensioni si approfondiscono e le vostre azioni sono trasformative le fondamenta sono nell'amore infinito voi siete ora pronti per questa evoluzione accelerata e come ci piace dire, restate sintonizzati voi siete sintonizzati tanto altro è in arrivo tutto è bene 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 tutto è bene